Tutti, 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 tutti Al primo colpo, oppure al quinto, oppure al decimo Queste sono più o meno una statistica di come l'ho trovata io La pistola è questa qua All'inizio faccio pagare Spara questi colpi qui Come vedete però non si può regaricare E non si può neanche migliorare Quindi dobbiamo recuperare dei pezzi Ci sono tre pezzi in giro per la mappa Per il quale otterrete anche il trofeo Delle DLC E allora Per ottenere questi pezzi Il primo si trova qui al distributore di benzina Dovremo prendere Piedimi porco e Accoltellare questa cassetta Questa pistola La possono prendere tutti e tre I personaggi perché anche se Prendete questi oggetti che ora vi faccio vedere Anche gli altri tre Due personaggi con quanti siete Lo potranno prendere Il prossimo lo si trova Nella zona del picnic Si trova qua dentro Si trova qua dentro L'ultimo pezzo si trova da Alvira L'arma così è Diciamo potenziata al massimo E Per potenziarla Per fare un colpo caricato Facciamo L2 Vedremo che Sul cerchio verde ci saranno dei pallini Ciò vuol dire Caricata al massimo Il colpo è Molto devassante Per caricare le munizioni Ci dobbiamo avvicinare a queste uova Solo alcune si possono Possono ricaricare la nostra arma Un quadrato si ricarica E scoppieranno Bene ragazzi Spero che vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like E ci vediamo alla prossima Bene ragazzi